Ciao tesoro, bentornato! Oh, com'è andata la giornata del mio maccione? Buona sapersi. Sono contenta che ti sia andata bene. Ora, che ne dici di darti una bella sciacquata, eh? Ho un regalo per te, ma te lo darò soltanto dopo. Lo vedrai solo dopo la doccia. Su, sciù, 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 sciù! Sorpresa! Oh, tutto questo? Vedi, hai lavorato tanto, tanto, tanto di recente. Volevo solo mostrarti un po' di apprezzamento. E quindi ti ho fatto questa torta al tuo gusto preferito per cena. Sono contenta che ti piaccia. Maspè, non ho finito. Questo è per te. Che cos'è? Vabbè, devi aprirlo per scoprirlo sciocchino. Ta-da! È un vestito da cameriera francese? O da maid? Ti piace? Dai, provalo! Non badare alla taglia, ci ho pensato io. E i fiocchi cercheranno di stringere. Dai, su, su! Ti posso aiutare? Ah, trovare le calze giuste è stato abbastanza facile. Lavo i tuoi calzini ogni giorno, quindi... E poi... Che ne dici del tessuto? Lo so, fa un po' di solletico qui e 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 qui. Ok, la smetto. Girati. Sì, ti stringo il fiocco. Aspetta... Ok, ci sono quasi... E beh, certo che deve essere un po' stritto. È un vestito da cameriera, ti ricordo. Ora un attimo solo... Fatto! Datti un'occhiata. Che ne dici? Come ti senti? All'inizio ero indecisa se scegliere tra cotone o seta. Ma alla fine ho deciso per la seta nera perché è molto bella e... È così liscia e poi sembra quasi illuminarsi. E poi quei fiocchettini e la gonna e il colletto. Dai, fai una giravolta. Forza, so che vuoi farlo. Dai, gira. Per favore. Bravo. Sei adorabile. Avrei dovuto prenderne una per me. Saremmo stati il duo cameriere, eterne nelle pulizie. Comunque, ci sediamo e mangiamo, mia piccola cameriera. Oh, nulla è che pensavo a quanto... A quanto io sia fortunata ad averti. Sai qual è la cosa che amo tantissimo di te? Tu hai questa fiducia che non risulta nell'arroganza, ma che semplicemente ti ci dedichi con tanto impegno. In che senso? E ricordi quella volta in cui hai fatto di tutto per accumulare cibo in scatola? Per fare volontariato? Hai sprecato i tuoi fini di settimana solo per quello? Per poterli donare a chi ne aveva più bisogno. E se non ti avessi amato allora, l'avrei fatto sicuramente dopo. Comunque, dopo cena... Ti andrebbe di fare un photoshoot? Sai, nell'outfit. Dai, ma se sei adorabile! Voglio soltanto catturare questo momento. E poi, possiamo fare anche delle pose? E avrei anche una scusa per utilizzare la mia Canon. Sì! Dai, non voglio aspettare. Finiamo di mangiare e facciamo le foto. Ok, ho preso la telecamera. Tadà! Luci e modello! Cosa devi fare? Facciamo qualcosa di semplice. Metti le tue mani così. No, no, no. Davanti al tuo outfit, così. Stai fermo. Ah, aspetta, aspetta. Me ne sono dimenticata. Dovrei pensare al trucco e ai tuoi capelli. No, fidati. Sarei ancora più carino. Cento volte meglio. Non che tu non lo sia già, in effetti. Però... Sono abbastanza sicura che aiuterebbe tantissimo. Sì, vorrei tantissimo truccarti, per favore. Sì! Ok, vado in camera da letto e vado a prendere tutto. Torno subito. Rieccomi. Allora, elastici e kit da trucco. Ok. Prego, si sieda, giovane fanboy. Sì, era una citazione da Star Wars. Ok, iniziamo col fondotinta. Ok, sì. Meglio questa, sì. Poi un po' di blush per l'eyeliner. Ok. Ultimo, ma non per importanza, la tinta per le labbra. Tesoro, fai così con le labbra. Ok. Ok, labbra in fuori, labbra in fuori. Bravo. Ok, ora te lo metto. Ok. Ora, per i capelli. Pensavo a... Due codini. Perché i codini sono carini. Ecco perché. E poi... Sono fantastici i tuoi capelli da quando usi quel nuovo shampoo. Ok, abbiamo finito, Marpione. Dai, iniziamo queste foto. Allora, ti faccio una foto d'angolo. Ecco qua. Uh, stai benissimo. Non sono una pervertita. Sono soltanto una donna di cultura che sta apprezzando il suo uomo. Forse dovremmo riprendere alcuni vecchi vestiti. Ci staresti molto, 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 molto di più. Allora, potrei farti vestire da Lolita, oppure farti fare qualche cosplay. Sì, sì, sarebbe fantastico. Mi chiedo se... Dove potrei trovare un vestito del genere, però? Ah, sta tranquillo. Ti metterò, di certo, delle orecchie da gatto. Va bene, ora... Fai una posa come se stessi... Va bene, ora... Fai una posa come se stessi per pulire la mensola? Sì, sì, quella lì. No, non devi pulire dav... Oh, wow, quanta polvere. Forse dovremmo pulire un po' più spesso. Va bene, ora spieghi. Ebbè... Scusa, era la polvere. Ok, un'altra foto. Bravissimo, la telecamera ti adora, amore. La telecamera ti adora. E dai, fammi fare la stupida. Non vedo l'ora di mettere tutte queste foto nel mio computer. Sì, mi sa che sarà il mio blocco schermo. Senti, ora che abbiamo fatto tutto... Chi ne dici di una passeggiatina? Cosa? Oh, tesoro, ma a me non importa niente di quello che diranno gli altri. Non è che sei tu che non vuoi uscire e basta? Ah, non vuoi rovinare il vestitino. Lo sapevo. Ti aspetto fuori. E comunque... Non ci sarà nessuno a quest'ora. È bello stare fuori insieme, soli e soletti. Sai, volevo dirti che ti amo. All'inizio tu eri un ragazzo così timidino, e invece ora... Ti fidi molto più di me. E sono contenta che tu lo faccia. Perché anche io mi fido di te. E ti amo tanto. Ti senti stanco, morino? Vieni qui e dammi un abbraccio, dai. Ti amo, tesoro.